Il 23 luglio si terrà l'ottava edizione Gran Fondo del Tanagro, intitolata alla memoria di Pasquale a Maccapane e Fran Capriore, manifestazione che è diventata una classica nel suo genere per il movimento ciclistico locale, soprattutto per merito degli organizzatori del ciclo Team Tanagro, che, con passione e sacrificio, ripropongono annualmente uno spettacolo di ottimo livello, sia a livello agonistico che scenografico nel comprensorio della vallata del Tanagro. Rispetto agli anni precedenti, in cui il percorso abbracciava nove comuni, due regioni, Campania e Basilicata, e altrettante province, Salerno e Potenza, il tracciato ha cambiato look ed è stato più circoscritto nelle località di San Pietro del Tanagro, Tegiano e San Rufo per un ampio tracciato di quasi 26 km da ripetere 4 volte. Per ulteriori informazioni, collegarsi al sito.